Vasche sì, vasche no. Aumenta la spaccatura, in particolare dopo l'istituzione del Comitato Pro Vasche. Da un lato c'è chi invoca la costruzione delle vasche per evitare tutti i danni causati dal maltempo e dall'esondazione dei fiumi. Dall'altro chi difende salute ed ambiente e che teme l'acqua inquinata di fiumi e torrenti che verrebbe raccolta dalle vasche. Il ricercatore del CNR Rocco De Prisco ribadisce la sua posizione. Prima di procedere alla costruzione di qualsivoglia opera bisogna provvedere alla bonifica delle acque. Da quando è nato il Comitato Contro le Vasche ne ho fatto parte e ho dato un po' tutta la mia esperienza scientifica e la mia consulenza scientifica. Per un motivo molto semplice ritengo che questo territorio, l'area del San che è interessata al fiume, vada prima bonificata nelle sue componenti acqua e melma e fanghi e poi dopo si può pensare alle opere idrauliche. Perché è impensabile che durante le grandi piene questa acqua e questa melma vanno nelle vasche. In qualche modo è vero che non allaga le persone, non allaga i campi circostanti, le case con gravi disagi. Mi immagino i disagi che si succedono quasi ogni anno. Però bisogna anche dire che questi inquinanti alla fine noi dove li lasciamo? Li lasciamo sempre nella nostra casa. E chi provvederà poi dopo alle opere di disinguinamento? Se c'è una volontà di andare a disinguinare anche i fanghi e l'acqua che stanno in queste vasche di raccolto, ben venga. Ma se queste vasche non sono nemmeno attenute, ma sono delle vasche che sono in qualche modo assorbenti, secondo voi dove va a finire? Gli inquinanti dove vanno a finire? Vanno a finire nelle falde. È indiscutibile, non è appellabile da nessuna parte. Il problema è a monte. Prima dell'obbligo elettrolico vanno risanati i fiumi, vanno dragati, vanno tolti i fanghi, vanno rifatti gli argili, molto semplicemente. Non si disinguina le acque. Pensate che a Solofra sono stati chiusi tutti i pozzi e è stata vietata anche l'acqua per igiene personale. Non è possibile che il tetracloro etilene che sta nelle nostre falde e che è stato provato, che esiste nelle nostre falde acquifere, che scende da Montoro, Solofra, Mercato San Severino, Castello di San Giorgio e pure a Nocere, abbiamo trovato questi risultati, certificati non da noi ma dall'ARPAC, che esistono questi problemi. Facendo le vasche si risolve questo problema, se me lo dimostrano io sono pronto a sottoscrivere.